Salve, sono Flavio Briatore, ma d'ora in avanti per voi sarò il boss. Voglio chiarire subito una cosa, questo non è un gioco, non è un reality, non è un talent show. E io non sono né un presentatore, né un attore, ma il futuro d'attore di lavoro di uno di voi. Questo è il colloquio di lavoro più lungo e difficile che sia mai stato pensato. Avete superato una durissima selezione e adesso siete 14. I più bravi, i più preparati e i più fortunati. E io tra di voi cerco il migliore. E il migliore lavorerà al mio fianco, almeno per un anno, con uno stipendio di 6 cifre. Da questo momento non c'è nessuno che interferisca nella mia scelta. Qui decido solo io, basandomi sulla meritocrazia, meritocrazia, meritocrazia. Il vostro destino è nelle vostre e nelle mie mani, soprattutto nelle mie. Io non sopporto gli arroganti, i presuntuosi, i teorici, i cretini e i bugiardi. Ricordatevi che questo è un gioco di squadra e io valuterò chi di voi è il manager più completo. Non solo capace di tirar fuori le p***e e gli artigli nel momento giusto, ma anche di gestire e di aiutare i compagni. Io ho sempre, sempre puntato sul talento, sulla forza di volontà e sulla creatività. Per capire chi siete, vi metterò subito il lavoro. Sarete divisi in due squadre e ogni settimana affronterete una prova che testerà la vostra attitudine al business. Io saprò sempre tutto quello che succede grazie ai miei due assistenti. Patrizia Spinelli, che lavora con me da vent'anni, e Simona Vogadro, che collabora con me su vari progetti. Se la vostra squadra perderà, uno di voi verrà eliminato. Se volete dimostrare che avete le p***e, siete nel posto giusto al momento giusto. Se tutto questo vi spaventa o vi sentite fighi o dei fenomeni, problemi zero. La porta è lì. Chiaro? Bene. Per voi, la sfida inizia adesso. Ci vediamo presto. And good luck. To everybody. Grazie.